shayla gatta è senza dubbio una delle protagoniste di questa primissima parte della nuova edizione del grande fratello la ballerina originaria di secondigliano è già finita al centro di diverse dinamiche in particolare del triangolo amoroso che la vede coinvolta con lorenzo spolverato e favier martinè nelle ultime ore però a fare scalpore non è stata la dinamica amorosa che la vede protagonista bensì una sua affermazione riguardante uno degli eventi simbolo del nostro paese e di una delle sue città più affascinanti il palio di siena ieri pomeriggio prima che andasse in onda la quarta puntata del grande fratello shayla gatta ha commesso una gaff da matita blu sul palio di siena mentre parlava con tommaso franchi senese doc e membro del consiglio della contrada della tartuca quest'ultimo le ha confessato di avere il sogno di vincere il palio di siena l'ex velina di striscia la notizia del tutto impreparata ha chiesto e che cos'è tommaso è rimasto di stucco così come i telespettatori che hanno assistito alla scena e che l'hanno commentata su xx twitter ha scritto un libro e non sa nemmeno cos'è il palio di siena ha scritto qualcuno e ancora shayla davvero non conosce il palio di siena ma è uno scherzo io posso capire elena che è straniera ma non conoscere il palio di siena e cosa sono le contrade è davvero ignorate